Mario Samprisi, vincitore del biancorosso dell'anno 2015-2016, migliore per rendimento secondo i tifosi, è un premio non da poco. Sì, ringrazio i tifosi, è stata una stagione un po' strana a livello di tutti gli aspetti, però a livello personale sono contento che mi hanno votato come primo classificato e spero di dare ancora tanto a questa maglia, ai tifosi, alla società e a tutti. Hai giocato un po' in tutti i ruoli, in difesa 3, a 4, a 5 hai giocato ovunque, esterno di centrocampo insomma anche d'utile oltre che di qualità. Beh, forse è stata quella la votazione maggiore, adesso non lo so, sì sì, è una delle mie caratteristiche fin dal settore giornalino che mi ha dato in più ruoli, sono dato questo contributo alla squadra, sono contento e spero di darlo ancora. Una stagione complicata, qual è stata secondo te la svolta di quest'anno? È stata una stagione strana perché siamo partiti bene, poi abbiamo avuto varie infortuni, varie squalifiche, il periodo brutto eccetera, penso sia stata la svolta per, sia stata Ascoli perché andando sul 2-0, espulsione a metà primo tempo, portando a casa i tre punti, insomma è stata quella la svolta di tutto che è partita la serie positiva. Siamo allo Stadio Menti, la vostra casa, di fronte abbiamo la Curva Sud, merito, gran merito anche ai tifosi che vi hanno seguito tutto l'anno. Sì, infatti ho detto l'altra volta che questa è una piazza civile, si fanno le cose con intelligenza e ringraziamo loro perché ci hanno sempre dato supporto, anche se hanno fatto magari qualche contestazione ma nel giusto modo. Questa è una roba positiva perché secondo me in altre piazze magari non si superava un periodo magari così brutto. Il premio Biancorosso dell'anno è anche un preludio a fare bene le stagioni successive, vedi Giacomelli, vedi Brighenti, il dubbio è che Mario Sampirisi rimane in Biancorosso. Ma io ho un contratto qua con Vicenza quindi adesso stanno cambiando un po' le cose, intanto ci godiamo la salvezza e poi vedremo, fra qualche settimana parleremo e ci incontreremo con la società e vedremo. Nicolò Brighenti ancora una volta sul podio del Biancorosso dell'anno in una stagione travagliata, l'infortunio, sei tornato, insomma una bella soddisfazione. No ma infatti fa piacere perché non ho avuto purtroppo a disposizione tutta la stagione per potermi far apprezzare dai tifosi, però scherzi a parte, insomma sono contento perché alla fine l'anno si è concluso bene, la stagione si è conclusa bene e ora andiamo a ricaricare le batterie in vacanza e poi pensiamo alla prossima stagione. Un anno fa ci avevi detto io rimango a Vicenza e poi in estate hai detto ti sei legato ai colori biancorossi, il mio sogno è vestire la fascia di capitano, cosa che hai fatto da quando sei tornato in campo? E ora dobbiamo portarla avanti, ci sono tante cose in ballo perché sta cambiando la società però penso che non ci siano problemi per quanto riguarda la mia permanenza qua, quindi una volta raggiunta la fascia da capitano, diciamo il mio obiettivo, ora è giusto portare avanti la mia carriera qua per quello che il Vicenza mi ha dato in questi anni. A settembre te l'aspettavi una stagione così difficile con la promozione arrivata solo all'ultimo? Ma è chiaro che è stato un anno particolare perché dall'inizio alla fine sono stati mille infortuni, mille problemi, l'importante è che sia finito tutto bene e che abbiamo mantenuto la categoria e poi al resto ci penseremo dal prossimo anno. A livello personale invece quale è il ricordo migliore di questa stagione? Ma è ovvio scontato dire il mio rientro in campo dopo il brutto infortunio, la partita qua in casa col Modena dove abbiamo vinto il rimonto, è stata una bellissima giornata che ricorderò per sempre sicuramente perché è stata ricca di emozioni.